Cento nervate ciascuno Il verbale? Non ce l'hanno fatto Per stare a fischio, mettere forno di ciascuno Pronti? Adesso facciamo partire oppure lo facciamo allontanare eh sì il rumore è guavo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Deve avere una bomba sulla sua testa e il popolo ucraino l'ha dichiavata... Non si muore un culo che gli deve categoricamente fare saltare la testa fino a un terzo e a un quarto e a un quinto piano. E dovrebbe categoricamente il popolo ucranio farlo sparire dalla faccia della terra. Grazie. 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 Grazie.